Antonino Vallone, elezioni particolari? Sicuramente è un'elezione che rappresenta una svolta significativa per la nostra città. Per quanto ci riguarda, chiaramente il nostro progetto non è stato preso in considerazione così come noi pensavamo. Chiaramente non pensavamo di rappresentare un'alternativa vincente, ma vogliamo anche iniziare un progetto culturale e politico per la nostra città che non si basi semplicemente sulla voglia di mandare a casa il vecchio, ma su idee costruttive, su una visione di città a misura d'uomo. Non sono state un po' troppo le frammentazioni anche da parte del blocco che si contrapponeva al vecchio? Sì, chiaramente oltre a 5 Stelle che è una realtà nazionale che si è rivelata molto grande in varie realtà, qui ad Alcamo già c'è una realtà civica come ABC. Diciamo che forse la gente preferisce la semplificazione, sapere nero-bianco, e non vuole le tinte medie, sapere magari una differenziazione su contenuti, su impostazioni, sui toni. Chiaramente è prevasta la voglia di dare una scossa forte a questa città. Però non lo so, io penso che, come ho sempre detto, il cambiamento comincia da ciascuno di noi, non si improvvisa. Spero che sia una rivoluzione, non una semplice rivolta. Ma voi vi aspettavate di più comunque? Sì, noi sicuramente, soprattutto per quanto riguarda, almeno da tutte le ultime settimane, le attestazioni che abbiamo avuto, aspettavamo riguardo alla mia candidatura un numero maggiore di voti. Sicuramente penso intorno a un migliaio di voti. Allora, Antonino Vallone cosa farà adesso? Continuerà la sua attività politica anche sotto l'aspetto civico? Sì, ho già fatto un post in cui parlavo sia di un dato positivo per le forze di cambiamento che ci sono ad Alcamo, sia il fatto che non c'è stato un apprezzamento elettorale riguardo all'idea di progetto, appunto di progetto Alcamo. Però ho detto anche che il mio impegno civico nella città continua nei modi che riterrò più opportuno. Grazie.